Io sono particolarmente emozionato perché mi trovo in una sala intitolata ad Emilio Alessandrini. Emilio Alessandrini era un mio carissimo amico. Eravamo amici fraterni. Ed è uno dei tanti magistrati che è morto per difendere la nostra giovane democrazia, la nostra Costituzione. Lo dico perché parla un pubblico di giovani, di giovani, di giovanissimi, che non hanno vissuto quei tempi. Emilio Alessandrini fu ucciso, come dissero poi i terroristi di prima linea, perché dava credibilità allo Stato. E allora, questa è la mia scelta, amico mio. Andiamo incontro al vivere e al morire come il nostro pensiero ci dice, come mi dice quella mia voce di dentro, il mio Dio.